A Venezia non è carnevale senza la tradizionale festa delle Marie, che ricorda l'omaggio in gioielli che il doge portava 12 fanciulle veneziane per permettergli un matrimonio con dote. Ecco allora a sfilare nella sala capitolare della scuola grande di San Giovanni Evangelista per la selezione finale le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2022. Qui le aspiranti al titolo, tutte nate o residenti a Venezia, sono state selezionate dalla giuria tecnica e dalla patrona Maria Grazia Bortolato. Sono felice, quest'anno poi appunto che siamo in presenza l'abbiamo fatto e adesso iniziamo il 19 con la vestizione, trucco e perucco e poi una sorpresa. Le 12 Marie del Carnevale nei prossimi giorni animeranno i palazzi, gli eventi e le piazze veneziane vestendo gli abiti sartoriali cinquecenteschi disegnati da Francesco Briggi dell'atelier Pietro Longhi. Il vestito, la vera novità, completamente rivisitato anche per festeggiare le celebrazioni dei 1600 anni della città lagunare. Sono sicura che anche per loro sarà una festa delle Marie gioiosa e felice e si ricorderanno come dico per tutta la vita come le altre. Che Marie sia tutta la vita.